Buon pomeriggio, oggi siamo in una postazione un po' più diversa dal solito e abbiamo due pacchi Prozis da scartare insieme questo è un po' più pesantuccio ma sembra anche più piccolino mentre vi afface quest'altro gigante, però più leggerino infatti sono molto curiosa, voglio capire cosa c'è all'interno e adesso mettetevi comodi che lo scartiamo insieme ok, iniziamo ad aprire il primo scusare un po' di forza wow, ho già visto una cosa che mi piace qui si ferma tutto chi è incinta non può guardare questo video cioccolata cioè, pazzesca, 500 grammi ora mi verrà il diabete ricordiamo che è sempre tutto molto super fit ottimo appunto per chi vuole stare in forma per chi si allena soprattutto e quindi ha uno stile di vita un po' più sano e vorrei comunque concedersi insomma delle piccole voie ma restando in forma abbiamo qui eccola, eccola la nostra famosa crema al burro di arachidi gusto cioccolata dicono che sia proprio proprio identica alla classica cioccolata questa sarà la prima cosa che proverò bella crema di mandorle tutte creline in questo pacco mi piace un sacco abbiamo mamma mia io sono amante degli anacardi io veramente se mi porti una busta così la divoro in un secondo e qui abbiamo la nostra crema di busto anacardi tutto molto proteico e fit ripetisco ah questo ok un burro di arachidi gusto cannella sono curiosa poi ah un'altra a cioccolato questa è la mia preferita qui vedo qualcosina delle barrette ok al cioccolato docce di cioccolato mi sono tipo presa fermi tutti fermi fermi tutti mamma mia ho una fame solo a guardarlo i nostri fantastici brown veramente super super buoni buoni i più buoni che abbia mai assaggiato in tutta la mia vita e non sto scherzando io penso che veramente qui cioè sono a rischio otto pezzi ma di una qualità un sapore pazzesco io dopo lo mangio insieme a voi ho deciso dovete capire dovete solo capire guardando le mie espressioni e ne abbiamo un altro poi una bellissima maglia taglia L bianca questa forse passerà al mio ragazzo forse ed eccola qui ah molto molto larga sì sicuramente al mio ragazzo però bellissima molto molto bella bella grande mi piace mi piace anche a me vestirmi molto over ma questa penso che sia un po' esagerata e poverino dobbiamo anche regalare qualcosina anche a noi proverò ad inserirlo di nuovo all'interno di questo pacco è tantissima roba adesso passiamo al secondo allora qui già ho iniziato ad aprire oh quanta roba ah beh sono curiosa perché già vedo qualche capo sportivo vediamo questo dovrebbe essere ci leghi ovviamente rosso a fuoco ragazze questo qui è molto molto particolare a quanto noto ha tipo questa base un po' più laminata quindi un leggero potete notare un leggero lucicchio forse no non si nota molto quindi è un po' laminata ed è comunque molto comoda non ha nessun tipo di arricciatura dietro quindi veste molto molto comodo fantastico il colore va più nell'arancio anche se è un rosso quindi è un rosso comunque in caldo molto in caldo poi vediamo cosa abbiamo qui forse ho capito questa questa l'avevo un po' sghiacciata esatto è bellissimo bellissimo abbiamo questo body speriamo solo che vada per la lunghezza dovrebbe andare vabbè io con il body ho un po' di difficoltà a capire vabbè comunque c'è questa P davanti molto bellina è super modellante e contenitivo quindi sono curiosa di vedere come mi sta addosso e soprattutto come mi trovo il mio allenamento e qui abbiamo fatto un bel abbinamento e infatti non c'è due senza tre questi questi ho capito mamma mia questi hanno fatto impazzire tutti quanti in palestra perché c'erano già di un altro colore mi sembra blu e rosa qui sono impazzita cioè gli altri sono bellissimi blu e rosa cioè se andate sul sito vi innamorerete però guardate qui la bellezza ed è un abbinamento proprio di fuoco grazie mille e adesso passiamo oh quanta roba è mo proverò a fare veloce perché è veramente tanta tanta roba abbiamo questi porridge fantastici da 60 grammi e ce l'abbiamo gusto caramello e ne sono 4 porridge gusto cioccolata e ne sono sempre 4 non ve li caccio perché se no non so più dove mettere le cose abbiamo questi muesli a gusto banana e fragola mi piace mi piace li voglio assaggiare e poi abbiamo wow fiocchi d'avena con la pala qui penso sia esatto proprio un chilo fantastico anche perché io sono amante di porridge e tutto quindi e poi c'è lei la nostra salsa al ketchup piccante zero grassi zero sud zuccheri cioè totalmente super fit bella devo provare con la carne stasera mi piace e ragazzi abbiamo finito sono devastata tantissime cose sono arrivate ma sono veramente super felice e onorata di questa fantastica collaborazione grazie Prozis mi hai reso come sempre felice mi hai sempre sorpresa e vi consiglio di andare a vedere sul loro sito perché oltre alla qualità e alla bellezza dei capi di avviamento che hanno hanno dei prodotti alimentari buonissimi buonissimi e non fanno per niente male per chi è sportivo per chi ha uno stile di vita un po' più sano ecco io consiglio estremamente che se avete qualche piccola voglia magari di sfruttarla nel modo giusto quindi scegliendo prodotti buoni che comunque accontentano le nostre voglie ma sono anche super fit un bacione buoni 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 buoni